Quando durante il lockdown il mondo dello spettacolo si è fermato per la pandemia i lavoratori portoghesi del settore audiovisivo si sono resi conto che non potevano aspettare gli aiuti dello Stato e così hanno deciso di organizzarsi per aiutare i colleghi in difficoltà fornendo loro pasti caldi. È nato un movimento chiamato Unione Audiovisiva. I colleghi che ci chiedono aiuto sono persone con una famiglia, una casa, una macchina, con bambini che vanno a scuola, che avevano una vita attiva e super strutturate che si sono improvvisamente trovati privati di tutto. Non hanno la previdenza sociale o gli aiuti del banco alimentare, noi fortunatamente eravamo autosufficienti e avevamo un sostentamento. Come tecnico di palcoscenico Gonzalo Santarem guadagnava più di 1600 euro al mese, da marzo però è senza lavoro e per mangiare ha bisogno di una mano. Quello che passa allo Stato non è sufficiente per campare. Ho ricevuto 250 euro nel mese di aprile, poi hanno ritoccato i bonus sociali, 438 euro, ma io devo pagare un affitto che è di 380 euro. Ci sono persone che si trovano ad affrontare situazioni molto difficili, che ricevono un sostegno davvero basso da parte dello Stato. Una cosa indegna, sono un uomo prima di essere un tecnico e quindi mi sento in obbligo di fare qualcosa per aiutare gli altri. Il Ministero della Cultura ha risposto alle critiche del settore con ulteriori sostegni. La prima trancia, da oltre 30 milioni di euro, servirà per sostenere direttamente artisti, tecnici e altri professionisti. Filippa Soares, no Porto, Portugal, para a Euronews.